Oggi parliamo di cosa non sai dell'analisi fondamentale. Bene, ciao a tutti, sono Mauro Caimi, bentornati in questo nuovo video. L'analisi fondamentale degli mercati è quell'analisi che si occupa di fare uno screening dei bilanci della società, di cercare di capire quale sarà l'andamento, in pratica, degli earnings, quindi degli utili della società, da qui ai prossimi mesi, per cercare di comprendere se quella determinata società, quella determinata azienda, può essere un'azienda su cui fare investimenti finanziari. L'obiettivo primario, quindi, di un'analisi di natura fondamentale è semplicemente quello di analizzare i bilanci, ragazzi. Analizzare i bilanci per cercare di capire quell'azienda, se a futuro, dove potrà andare, quanti soldi farà, perché il problema di fondo è sempre quello, quanti soldi farà in futuro. L'obiettivo dell'analisi fondamentale è quello di ragionare sugli utili, andare a cercare di capire questa azienda in particolare farà utili in futuro, se così fosse, allora noi vedremo il titolo di questa azienda salire nell'arco dei prossimi anni. Se il titolo salirà nell'arco dei prossimi anni, io investo adesso, compro ora, e in questo momento faccio il mio investimento finanziario che mi farà guadagnare nel lungo periodo. Detto così sembra una favola, siamo in clima Disney, ragazzi, e veramente, detto così, sembrerebbe una favoletta raccontata. Dove è il problema? Si può veramente andare a creare un'analisi fondamentale, andare a fare analisi fondamentale sui mercati con grande tranquillità per impostare il proprio portafoglio finanziario in maniera tale che questo portafoglio possa essere un investimento di lungo periodo profittevole? Molto spesso mi viene fatta una domanda. La domanda molto semplice è quella di seguire il portafoglio, la metodologia di Warren Buffett. Ragazzi, Warren Buffett è il più grande investitore del mondo, o uno dei più grandi, anche se a mio avviso il più grande è Ray Dalio, però Warren Buffett è sicuramente uno dei più grandi investitori del mondo, uno dei più grandi investitori di tutti i tempi. Ha dimostrato in maniera chiara che la teoria dell'efficienza dei mercati può essere un po' toccata anche, che quindi nel prezzo non è sempre incluso, diciamo, ogni rendimento, quindi il prezzo di mercato è sbagliato a volte e poi si può fare rendimento nel lungo periodo. Questo è assolutamente vero, perché Warren, ragazzi, ha fatto veramente i miliardi, ma incredibile, ma vero. Anzi, vi do una chicca dopo questa crisi finanziaria che c'è stata da poco, addirittura col patrimonio che ha Warren Buffett, potrebbe comprarsi due o tre delle big aziende gigantesche americane, come ad esempio McDonald's, quindi comprarla proprio interamente, ragazzi. Pensate quanti soldi ha Warren Buffett. Warren Buffett usa solo, esclusivamente l'analisi di natura fondamentale. Esiste anche uno splendido libro che spiega la metodologia utilizzata da Warren Buffett per fare le sue operazioni finanziarie di lungo periodo, e il libro si chiama Il Metodo Warren Buffett, che è un libro che consiglio a tutti. È molto bello, ragazzi, è anche un po' complesso da leggere. Ve lo lascio in descrizione se qualcuno di voi è interessato alla lettura, tanto siamo in questo clima da quarantena, quindi il tempo per leggere ce lo avete. Quindi sembrerebbe, ragazzi, che utilizzare l'analisi fondamentale sia la famosa chiave di volta. La fa anche Buffett, insomma, la utilizzano tutti, quindi io faccio l'analisi fondamentale e badabayun faccio i soldi nel lungo periodo. Sbagliato perché, ragazzi? Perché ci sono una serie di considerazioni che dobbiamo fare, che non vengono assolutamente fatte quando si tratta un argomento con estrema superficialità, come si fa spesso, un po' su tutte le cose che sono un po' complesse. L'analisi fondamentale, come l'investimento nei mercati finanziari, è un tema estremamente complesso, quindi, insomma, dire così, seguo quello che fa Buffett e domani divento miliardare, è anche un po' sbagliato, un po' vi porta fuori strada. Allora, andiamo a cercare di capire dove sono i problemi dell'analisi fondamentale, perché se riusciamo a capire anche i problemi, riusciamo anche a capire quando questo tipo di analisi può essere estremamente utile per l'investitore e vi può portare a quel punto a farvi fare veramente investimenti produttivi, positivi, di profitto per il lungo periodo. Tudiamo questa cosa facendo un esempio pratico. Dopo una crisi, quando avviene una crisi, i mercati finanziari collassano. Una volta collassati, i mercati finanziari riportano prezzi di aziende che sono veramente bassi. La prima cosa che riusciamo ad avere immediatamente come colpo d'occhio sull'analisi fondamentale è che i dividendi, ragazzi, pagati dalle aziende schizzano alle stelle. Perché i dividendi schizzano alle stelle? Perché sono una percentuale del valore della azione, della stocks, ragazzi. Se l'azione è scesa per via di una crisi finanziaria, di conseguenza vediamo il dividendo salire. Perché il dividendo è calcolato per singola azione, ragazzi. Essendo il dividendo dello scorso anno, badate bene, fisso, a quel punto io faccio una semplice divisione e l'azienda è crollata, quindi l'azione costa di meno, divido una quota fissa per un valore che è più basso, ottengo un valore più alto. Ovvio. Ragazzi, se non è ovvio questo, andiamoci, dai. Vabbè, scherzi a parte. Allora, questo è il primo spunto di riflessione che già ci porta a capire un po' il problema serio dell'analisi fondamentale, un problema che poi è anche comune all'analisi tecnica. Dov'è la questione, ragazzi? Il valore del dividendo che è stato elargito dall'azienda nell'anno precedente non è lo stesso dell'anno futuro. Il problema è questo. Quindi se io vado a confrontare un dato, vado a prendere come riferimento un dato che ad esempio è quello dei dividendi di un'azienda per dire mi conviene, non mi conviene acquistarla per il lungo periodo, devo anche ricordarmi che dopo una crisi finanziaria il valore dell'azienda è crollato perché le prospettive di fare utili per quell'azienda sono crollate. Questo è il discorso, ragazzi. Quindi quando andiamo a fare analisi fondamentale dobbiamo ricordarci che quello che vediamo, quello che leggiamo, il dividendo, il margine operativo, insomma i grandi indicatori classici di analisi fondamentale, non sono più veri. Questo è il problema dell'analisi fondamentale. È lo stesso di quello dell'analisi tecnica. Noi andiamo a cercare di prevedere, ragazzi, un valore. Nell'analisi tecnica e sui grafici si cerca di prevedere il prezzo di un'azienda, di una stocks o di un titolo o di bitcoin o di una criptovaluta basandoci sugli andamenti di prezzo. Nell'analisi fondamentale si deve prevedere non il prezzo, ragazzi, ma si deve prevedere l'utile, cioè come quell'azienda farà soldi il prossimo anno. Ora vi chiedo quale delle due cose è più facile da fare. Ecco dov'è il problema dell'analisi fondamentale, ragazzi. C'è una differenza enorme con l'analisi tecnica. È molto più difficile da fare una previsione sugli utili di un'azienda piuttosto che fare analisi tecnica sul grafico. Apriamo la porta di un'enorme enciclopedia, potremmo parlarne per secoli. Non è questo il momento, non è il video per parlare di queste cose. Vi basti semplicemente sapere, ragazzi, che l'analisi fondamentale, se fatta bene con i criteri e con i grismi, è molto più efficiente dell'analisi tecnica. Perché l'analisi tecnica è molto più aleatoria, ragazzi. Quindi è questa la vera differenza. È più facile farla, ma è molto più aleatoria. Analisi fondamentale è molto più difficile da fare e farla bene, ma se viene effettivamente azzeccata, allora porta risultati non dico certi, ma molto molto attendibili. Il problema di fondo è che fare bene un'analisi fondamentale, ragazzi, presuppone uno studio di analisti, tutti con i massimi PhD all'estero, risorse economiche ingenti e considerevoli. La scherzi a parte non è vero questo, sicuramente per farla su tutti i titoli è complicato, diciamo, certamente. Però per analizzare un settore, ragazzi, dovete spenderci molte, molte ore, perché dovete intanto conoscere il settore e poi dovete sapere come sta andando. Magari se lavorate, ad esempio, in quel determinato settore può essere estremamente utile, perché no? Fare un'analisi fondamentale su un settore che già conoscete. Per esempio, se a me piace il settore della tecnologia, posso cercare di prevedere gli utili futuri di Apple. A quel punto farò un'analisi fondamentale su Apple, soprattutto se lavorate all'interno di quel settore, magari avete qualche informazione in più dei comuni mortali, perché sapete che cosa stanno arrivando, i prodotti che stanno uscendo, quello che potrà avvenire nell'arco dei prossimi mesi. Perché ricordatevi, analisi fondamentale significa prevedere il futuro di un'azienda, non dei prezzi di un'azienda. E siamo arrivati quindi alla fine del video con il nocciolo chiaro che volevo dirvi. Analisi fondamentale sì o no? Assolutamente sì. Ma badate bene che è estremamente complessa, ragazzi, quindi non trattatela come una semplice informazione di lettura di quattro parametri. E non mi venite a dire che i dividendi di un'azienda pre-crisi sono uguali poi a quelle che avremo, o a quelli che vedremo nelle annate successive. E questo è il problema. Ci sono però delle aziende, ragazzi, che danno gli stessi dividendi perché sono obbligati per una serie di motivi. Allora, in quel caso potremmo anche valutare, però ragazzi, la coperta è sempre corta. Se un'azienda è obbligata a dare tutti quei dividendi nonostante non incassa e non fa utili, che fine fa? Rispondete voi. Il rischio, ragazzi, si sposta dagli utili al fallimento eventuale di questa azienda. Quindi, ragazzi, non possiamo eliminare il rischio. È una variabile del mercato. Accettiamola e controlliamola nel modo migliore possibile. E a questo punto, prima della fine del video, vi devo chiedere una cosa. Io ho in mente di darvi una soluzione a questo problema dell'analisi fondamentale un po' difficile, indicandovi un ETF che ritengo estremamente valido in queste circostanze e vi spiegherò anche perché. Ma se volete l'ETF sul canale, i pollici in su. Quindi, mi piace perché lo dico sempre alla fine del video per vedere chi di voi arriva alla fine del video, ragazzi. Allora, la scommessa, ve lo dico chiaro, sarebbe raggiungere i 500 mi piace perché l'altro giorno abbiamo superato i 480. Se li raggiungiamo, questi 500 mi piace. Vi porto questo ETF sul canale, lo analizziamo e vediamo dove, come, perché e quando. Ciao a tutti! Al prossimo video!